Ponsio Pilato convoca l'assemblea popolare per decidere delle sorti di Gesù Cristo. Si affaccia dal palazzo e si rivolge alla folla. Popolo! Chi volete libero? Gesù o Barabba? E il popolo? Barabba! Popolo! Siete sicuri? Chi volete libero? Gesù o Barabba? Barabba! Ve lo chiedo per l'ultima volta. Chi volete libero? Gesù o Barabba? Barabba! E va bene, Barabba libero e Gesù stopper. Però se perdiamo col Gerusalemme, io me ne lavo le mani.